Grazie a tutti. Sia vincendo che perdendo, quindi possiamo pensare che sarà una partita durissima, noi giocheremo con tutti i nostri giocatori migliori e con tutte le nostre forze per cercare di passare il turno. Anche se all'inizio della stagione questa era una manifestazione che avremmo affrontato con lo spirito di chi fa una passerella, poi però siamo qua, abbiamo dato spazio in queste partite tanto anche ai giocatori che durante il campionato hanno meno spazio. Però a una partita di distanza dal passaggio del turno è giusto nei nostri confronti, nei confronti del club e di tutti i nostri tifosi provarci fino in fondo e quindi così sarà. Nella partita di andata a Sudertaglia abbiamo iniziato una partita in maniera molto negativa, sotto ritmo e loro sono una squadra che fa del ritmo la loro pecunarità, la loro forza. Giocano veramente una pallacanessa ad altissimi ritmi sia offensivi che difensivi, facendo raddoppi, andando sulla difesa a tutto campo e attaccando piccherò in grande movimento e di uno contro uno sia fronte che spalle. Sono una squadra atipica nel senso che possono alternare quintetti piccoli o piccolissimi, giocando proprio con ali piccole in posizione 4, addirittura con ali in posizione 4 e 5. Quindi questa è la cosa che mette più in difficoltà squadre strutturate fisicamente come siamo per esempio noi con dei ruoli, con dei atleti in certi ruoli con stazza importante. Dovremo gestire questo tipo di difficoltà facendo male in attacco per la nostra fisicità superiore rispetto alla loro e gestendo le difficoltà che potremo avere negli accoppiamenti difensivi con gente più piccola di noi.